Siamo qui per la prima tappa della Castrol Vizzeca, è molto popolare perché ha vari motivi. Prima le macchine di propotenza con il peso, è ottima, loro sono veloci e sono molto divertenti a guidare. Secondo, sono presentati in modo professionale, la squadra di Seat Ponti Sport, la donna di Giorgio Stovolo, e poi questo porta un divertimento per i piloti perché furiamo sempre, vuota a vuota, dal punto di vista di pilota o dal punto di vista di spettatore, è una gara che con soddisfazione a tutti i miei amici.